Buonasera, benvenute e benvenuti a questa nuova edizione del TG6. Oggi, come di consueto, si è svolta la cabina di regia ministeriale per la ridisegnazione dei colori delle zone per la prossima settimana. L'Abruzzo ancora in zona arancione, ma rimane in vigore l'ordinanza regionale che impone maggiori restrizioni in moltissimi comuni. Oggi 473 nuovi casi di covid nella nostra regione, 8 i morti e nuovo record di ricoverati in terapia intensiva. Vediamo. La situazione rimane la stessa, metà Abruzzo in fascia arancione su indicazione della cabina di regia ministeriale e metà in fascia rossa per l'ordinanza del presidente regionale Marsilio. L'indice di contagiosità RT è a 0,96 e considerando che sotto l'1 sarebbe da zona gialla. La pressione sugli ospedali, però, non ha permesso di allentare le restrizioni. Oggi il nuovo record dei ricoverati in terapia intensiva. In reanimazione i pazienti sono 87, per un tasso d'occupazione del 41,4%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. Aumentano anche i pazienti in area medica. Sono 6 in più rispetto a ieri, per un totale di 657 ricoverati. Anche qui il tasso d'occupazione al 44,2% ha sfondato la soglia di allarme, fissata per le terapie non intensive, al 40% di posti letto occupati. Oggi in Abruzzo 473 nuovi casi di covid, il 9,7% dei 4863 tamponi analizzati. Due casi su tre riguardano le province di Pescara e Chieti. A nulla sono valsi i 20 giorni di limitazione delle libertà personali, soprattutto a causa della contagiosità della variante inglese. Per questo, nelle due province in questione, rimarranno maggiori restrizioni. Propriamente, però, i comuni soggetti all'ordinanza regionale non saranno definiti zona rossa. Perché Marsilio ha imposto le restrizioni contenute nel vecchio DPCM ormai scadenza e non a quelle aggiunte dal DPCM del Premier Draghi, quali ad esempio la chiusura di Barbieri e Parrucchieri. L'unico comune non più soggetto all'ordinanza è Picciano, mentre a partire da domenica entrano in questa sorta di zona rossa Castiglione a Casa Aurea, Torre dei Passeri, Cagnano a Miterno, Capitignano, Castelvecchio, Subecuo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso. Le scuole, invece, secondo le intenzioni della regione, dovrebbero riaprire il 15 di marzo. Oggi in Abruzzo si registrano anche otto decessi, quattro dei quali però riferiti a morti avvenute nei giorni scorsi e comunicate solo oggi dalle ASL. 427 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 13.116 positivi accertati, 37 in più rispetto a ieri. Ancora critiche dal PD alla Giunta Marsilio per quella che riguarda il piano vaccinale assente, secondo il capogruppo Paolucci, che dice che non c'è solo il problema dell'approvvigionamento. Sentiamo Paolo Lorenzetti. Paolucci, tornate a criticare la Giunta regionale sulla gestione del piano vaccinale. Perché? Perché non c'è un piano vaccinale, altre regioni ce l'hanno, l'Abruzzo questo piano non lo può vedere. Lo stanno scrivendo adesso, all'ultima interpellanza in Consiglio regionale, così mi è stato riferito dall'assessore e quindi dalla Giunta, è quello che noi vogliamo sapere quando riusciremo a raggiungere il target del 70%. Il tema non è solo l'approvvigionamento. L'approvvigionamento è un problema della Commissione europea e del Governo nazionale. Ma laddove avessimo anche tutti i vaccini a disposizione, la domanda è quanti vaccini questa regione è in grado di somministrare. La risposta che mi è stata fornita è sostanzialmente dai 3.000 ai 3.500. poiché il 70% della popolazione fa 1 milione, 1 milione su 1.300.000, per due dosi sono 2 milioni, se dividiamo 2 milioni di vaccini per 3.000, 3.500 al giorno fanno 700 giorni, ovvero due anni. Mi sembra che qui manchi davvero la capacità di programmare una sfida e un obiettivo così importante. Da ultimo, tanti anziani, le code, si è perso il filo delle priorità, se tu vai a prenotare non ci sono i codici di esenzioni, i fragili e i fragilissimi non sono uguali, anche su questo non c'è un piano in questa regione. Ci sono delle proposte del Partito Democratico? Assolutamente sì, intanto basterebbe prendere un esempio che ci sono in abbondanza, dal piano dell'Emilia Romagna a quello della Campania, da quello della Lombardia a quello del Veneto, in grado di mettere in ordine le priorità per quanto riguarda le persone più fragili della nostra regione. Già solo questo consentirebbe un più ordinato accesso al piano di somministrazione attualmente in atto, non è sufficiente, ma almeno ci sarebbe più ordine. Oggi se tu vai a una persona anziana o a una persona che ha tanti problemi non capisce qual è l'ordine le priorità, perché in questa regione non c'è, questo è un fatto gravissimo. Almeno copiamo i piani fatti nel miglior modo possibile, almeno su questo. Cambiamo argomento, come previsto è stata rinviata l'udienza preliminare che si doveva svolgere questa mattina per quanto riguarda il processo Rigopiano. Il GUP, preso atto delle difficoltà derivanti da questa ondata di coronavirus che non sta risparmiando la città di Pescara, ha deciso per il rinvio al prossimo 21 maggio. Alla ripresa i familiari sperano in una calendarizzazione più fitta. Ascoltiamo Stefano Recanati. Io ancora non mi riesco a spiegare perché l'udienza non si può fare in videoconferenza. Chi gli avvocati dà i propri studi e dà il giudice e dalla procura. Si fanno le lezioni in DAD nel 2021, non ho capito perché ancora non si fanno le udienze in videoconferenza. Si allungano i tempi sulle verità della tragedia di Rigopiano. Si sarebbe dovuta svolgere oggi dopo mesi l'udienza preliminare davanti al GUP Gianluca Sarandrea. Il giudice rientrato dopo un periodo di quarantena è tornato a svolgere le sue funzioni presso il Tribunale di Pescara, ma la paurosa risalita dei contagi e la zona rossa nella città adriatica impongono lo slittamento. La decisione nei giorni scorsi è stata valutata e condivisa anche dai legali della difesa e delle parti civili. Infatti preoccupano gli inevitabili assembramenti che si formerebbero all'interno delle aule. È vero sì che dallo scorso anno sono state previste per questo maxiprocesso, quattro aule collegate in videoconferenza, ma è pur vero che ogni aula finora ha radunato quasi un centinaio di persone, per non parlare di avvocati e familiari che devono raggiungere Pescara da altre regioni. A questo punto una valutazione è comprensibile quella avanzata al giudice per le udienze preliminari, visto che il rinvio terrà conto anche della sospensione della prescrizione per tutto il tempo del rinvio. L'udienza di oggi era la più delicata di quelle finora tenute, poiché era previsto non solo l'esame del perito trascrittore delle telefonate intercettate, ma anche l'acquisizione di riti alternativi, l'acquisizione di documentazione relativa a indagini difensive, la discussione sulle istanze di sequestro conservative proannunciate da alcuni parti civili, nonché la discussione sull'ammissione di eventuali integrazioni probatorie, anche di natura tecnica, finalizzate a ricostruire le cause dell'evento valanchifero, sempre nell'ottica di eventuale richiesta di giudizio abbreviato. La tragedia dell'hotel Rigopiano spazzato via da una valanga, dove persero la vita 29 persone, tornerà dunque in aula il 21 maggio alle ore 9.30, un'attesa lunga in cui si possa comunque vedere la luce in fondo al tunnel dopo questa nuova fase acuta della pandemia Covid e magari lavorare a più incontri settimanali. La speranza è che il coronavirus inizi a diminuire con i contagiati, soprattutto adesso che ci stanno le prime fasi di vaccinazione, almeno da permetterci a tutti quanti di tornare in aula. Un aspetto che dal 21 maggio si riparterà veramente, non un uguienzo ogni due settimane, questa volta fare tre giorni, quattro giorni di fila anche per gli avvocati che vengono da fuori, fanno un viaggio solo e si va avanti con questo procedimento. Si stringono sempre di più i rapporti tra l'università e il comune di Teramo, l'obiettivo è quello di trasformare il capoluogo in una vera e propria città universitaria. Tania Bonici Castelli. Una sinergia sempre più stretta tra università e comune di Teramo farà crescere culturalmente ed economicamente il territorio. È un impegno che il sindaco Gian Guido Dalberto e il magnifico rettore Dino Mastrocola rinnovano ai cittadini terramani. Il sogno è quello di trasformare Teramo in una città universitaria pulsante. La convinzione è quella che l'università può dare molto anche al territorio nel quale insiste, quindi non solo formazione, non solo ricerca ma anche sviluppo economico e penso che da parte di una città investire sulla propria università porti dei benefici enormi. Ho in mente esempi storici tipo Urbino piuttosto che Perugia, proprio città che sono cresciute anche storicamente intorno alla cultura, intorno alla forza propulsiva della loro accademia. È questo che mi piacerebbe fare, quindi è un punto di partenza. Teramo città universitaria è un protocollo e un contenitore che dobbiamo riempire di contenuti. Servizi per i nostri studenti, riportare ad esempio attività culturali in centro. Sinergie, ripeto, sinergie istituzionali per lo sviluppo. Una città universitaria è vivace solo quando i propri studenti la vivono a pieno, per questo a Teramo c'è oggi un grande dibattito sul riportare in centro l'università. Il rettore Mastrocola è però categorico, il campus di Colleparco non si tocca, in centro torna la casa dello studente e in futuro il Dams nell'ex manicomio. Pensare di spostare l'intero campus che è diventato una struttura fondamentale e ineludibile non esiste come prospettiva. Riportare l'università in centro significa dare sempre più impulso alla cittadella della cultura, quindi recuperiamo l'ex manicomio, ovviamente trasferiremo delle attività legate fondamentalmente alla Facoltà di Scienza e della Comunicazione, però non pensiamo che Colleparco debba essere smantellato. Il cementificio che fa capo alla ESCAL che dovrebbe sorgere a ridosso della riserva di Punta Derci ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura del TAR e il servizio. Si torna a parlare in queste ore della ESCAL e del cementificio proposto dalla ditta pugliese a ridosso della riserva di Punta Derci a Vasto. Si è infatti tenuta ieri dinanzi al Consiglio di Stato sezione 4 in modalità telematica l'udienza di discussione della sospensiva della sentenza 203 del 2020 pronunciata dal TAR per l'Abruzzo che aveva accolto il ricorso proposto da WWF Lega Ambiente contro il parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale che il Comune di Vasto aveva rilasciato in favore del progetto. Contro quella bocciatura la ESCAL ha presentato ricorso al Consiglio di Stato di fronte al quale WWF Lega Ambiente si sono costituiti nel giudizio con l'Avvocato Francesco Paolo Febbo. Senza dubbio, aspettevamo l'appello seppure è stato proposto a circa sette mesi dalla sentenza e proprio questo è stato il motivo che abbiamo adotto per contestare la sospensiva che sembrerebbe essere stato anche posto a fondamento della decisione di reiezione da parte del Consiglio di Stato sull'istanza proposta da ESCAL. Effettivamente questa appendice al Consiglio di Stato rivela ancora una volta quali sono gli appetiti su questa zona e che anche parte dell'imprenditoria locale sia interessata allo sfruttamento di questa zona e la politica sembrerebbe essere disattenta. Quindi rimaniamo noi come baluardo rispetto a questo tentativo di danneggiamento dell'ambiente e dell'assetto naturalistico. Ci troviamo di fronte a una situazione emblematica. La lotta alla cementificazione sulla costa di Trabocchi passa per la difesa del territorio ostacolando quest'opera che ne rappresenta proprio il baluardo. Quindi su questo va fatto un passo in avanti sia della politica ma anche degli operatori economici interessati. Stiamo scrivendo la Next Generation Way ragionando su come mettere in campo le politiche di transizione ecologica e ripartire per il futuro non solo di questo territorio ma dell'intero paese e noi stiamo ancora rincorrendo la zavorra. Ci aspettiamo che il Consiglio di Stato bocci definitivamente questo progetto ma altrettanto c'è bisogno di un'ulteriore risposta della comunità tutta di fronte a questa emergenza affinché la stessa politica riesca finalmente a mettere in campo quelle scelte che lo stesso Presidente Irak in questo momento ci sta chiedendo, ovvero quello di andare verso una società ambientalista, europeista e atlantista. A Corropoli sono scattati i sigilli per un'azienda manifatturiera gestita da un imprenditore cinese. Alla base del provvedimento, figlio di un'operazione congiunta tra Guardia di Finanza di Nereto e la Guardia Costiera di Giulianova la violazione delle norme in materia ambientale ed edilizia e la presenza nello stabile dove si producevano dispositivi di protezione anticontagio di quattro lavoratori in nero. Si lavorava in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie in questo capannone fatiscente e zeppo di macchine da cucire e tessuti da lavorare scovato dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera nel comune di Corropoli. I militari della tenenza di Nereto e della Guardia Costiera di Giulianova hanno sequestrato il capannone industriale che era gestito da un cittadino cinese in cui 13 persone, quattro delle quali in nero, fabbricavano mascherine anti-covid e dispositivi di protezione individuale. Le forze dell'ordine assieme al personale dell'asle di Teramo e ai tecnici delle comune di Corropoli hanno accertato svariate violazioni nel corso dell'ispezione all'interno dell'opificio in cui venivano disattese tutte le misure di prevenzione anti-covid dove mancava la certificazione antincendio e anche l'acqua potabile che era prelevata da un pozzo privo anch'esso di autorizzazione dal quale veniva captata l'acqua che serviva sia per la produzione industriale che per una cucina limitrofa allo stabilimento. In più, i reflui dell'opificio confluivano senza autorizzazione negli scarichi d'acqua bianca. Il laboratorio fungeva anche da dormitorio perché al suo interno erano stati ricavati abusivamente numerosi stanzini per gli operai con impianti elettrici non a norma e con gravi criticità dal punto di vista dell'agibilità e dell'igiene. Il titolare dell'attività manifatturiera è stato denunciato per violazioni in materia urbanistica di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, di gestione dei rifiuti liquidi prodotti e per aver impiegato mano d'opera irregolare. La Beta Dialisi, un centro di eccellenza in Abruzzo per persone dializzate, mette a disposizione della sanità pubblica le sue professionalità. Il problema però è di ordine burocratico. Manca infatti la convenzione. Vediamo. C'è sempre più bisogno di dialisi nella nostra regione, siamo a Montesilvano, al centro beta dialisi proprio della cittadina adriatica. Dottor Di Giandomenico, voi siete all'avanguardia per quanto riguarda la dialisi nella nostra regione, è un centro di eccellenza, tanto lavoro, c'è sempre più richiesta di dialisi in Abruzzo. Noi siamo partiti nel 2016 con il fabbisogno regionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 12 agosto di quell'anno, poi abbiamo fatto richiesta e nel 2019 ci viene assegnato 19 posti di dialisi. Ci viene dato un anno di tempo sempre dalla regione, l'abbiamo realizzato, l'abbiamo autorizzato a marzo l'anno scorso e sotto la pandemia abbiamo aperto perché c'era l'esigenza. C'era stato promesso e ci veniva riconosciuta la convenzione e tutto il resto, ma infatti questo non è avvenuto. Sono un anno e più che la beta dialisi sostiene il costo della terapia per questi pazienti che a titolo completamente gratuito. Quindi noi quello che chiediamo adesso è che l'assessore, la dottoressa Verì, il governatore e il direttore della ASL sistemino la questione amministrativa colmando il gap che c'è tra l'autorizzazione, la convenzione e l'accreditamento. È un anno e più che ormai ci rapportiamo con la ASL ma non si addiviene a niente perché loro vogliono parlare con noi solo dopo che siamo accreditati. L'accreditamento dipende dalla pubblicazione di un bando regionale che non sta avvenendo e non è previsto nemmeno nei prossimi anni che venga. Siamo con il Presidente regionale dell'ANED perché? Una domanda sorge spontanea, il caso di dire lei oggi è qui perché? Perché l'ANED sostiene questa causa? Noi siamo qui come segretario perché sono stata chiamata da alcuni pazienti che fanno dialisi qui perché tuteliamo gli dializzati. Siccome l'ANED è notoriamente contraria, diciamo che noi siamo più favorevoli al pubblico, però in questo caso devo dire che pur avendo fatto io stessa un attacco iniziale all'apertura di questa dialisi, dove la regione poi alla fine non mi ha dato ascolto, siamo venuti per vedere qual era la situazione. Mi sembra che la situazione qui sia abbastanza reale, nel senso che i pazienti sono sicuramente tutelati e poi questi pazienti vogliono rimanere qui. Per cui non capisco perché l'ASL non trasferisce direttamente i soldi che questi pazienti di cui avrebbero diritto al dottor Di Giandomenico perché comunque alla fine è qui che vengono a dializzare ed è qui che vogliono dializzare soprattutto in tempo di pandemia si sentono più tutelati. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, partiamo dal calcio di Serie B. Domani alle 14 all'Adriatico il Pescara cercherà di dare seguito alla vittoria di Cittadella. Il tecnico Grassadonia recupera Seterra, Sorensen e Riccardi, in dubbio invece Bocchetti e indisponibili Tavanelli e Balzano. Belanova dovrebbe essere l'unica novità rispetto al match del tombolato Andrea Costantini. Il blitz di Cittadella ha riacceso le speranze di una comunque difficile rincorsa salvezza e se il Pescara negli ultimi tempi in trasferta ha fornito le prestazioni più dignitose, ora bisogna dare una svolta alle partite interne. La squadra sicuramente ha qualche conoscenza in più, però teniamo conto che la settimana scorsa c'è stata l'infrasettimanale, quindi abbiamo veramente potuto lavorare poco e niente. Stiamo lavorando, ripeto, su tanti concetti, è normale che bisogna dare continuità a quello che si sta facendo perché non bisogna disperdere energie quando non hai tempo a disposizione e quindi in questo momento stiamo lavorando soprattutto su quello che la squadra sta facendo bene, ma deve ancora migliorare. Assenti Balzano e Tabanelli, in dubbio Bocchetti, Grassadonia dovrebbe riproporre lo stesso 11 del tombolato con l'eccezione di Bellanova, al posto appunto di Balzano, in ascesa alle quotazioni di Macin che può contendere una maglia a Maestro, ma che alla peggio dovrà contribuire dalla panchina, come fatto nelle ultime uscite. A prescindere da chi gioca, Grassadonia suona la carica. Noi dobbiamo trovare energie, forza contro qualsiasi avversario affrontiamo, per noi è la gara della vita, sono 12 finali, quindi dobbiamo affrontarla per vincerla assolutamente, mantenendo un grande equilibrio, avendo grandissimo rispetto, ma assolutamente battendo il ferro. Non possiamo fare calcoli nella situazione nella quale siamo, è una partita che non è fondamentale, ma è una partita che è importantissima per quello che è il nostro cammino, per quella che è la nostra crescita, quindi dobbiamo assolutamente entrare a fare una vera finale, dobbiamo uscirne vincitori insomma. Sul fronte Spal mancherà come l'andata il portiere Beriscia che si è fatto male a Salerno, al suo posto ci sarà Dembatiam nel 3-5-2 di Marino, spazio nel trio di difesa a Ragneri, Vicari e Ocoli, i quinti saranno Dickman e Strefezza, gli interni Valoti, Mora e Misieroli che potrebbe soffiare la maglia ad Esposito, l'ex Asensio e Paloschi in avanti con quest'ultimo in vantaggio sull'altro ex di Francesco. Grassadonia presenta così un avversario sì forte, ma in difficoltà e che non ha mai vinto nel girone di ritorno. Affrontiamo una squadra importante, una squadra forte, una squadra di qualità secondo me tra le migliori, una squadra che ha un grande allenatore, una squadra che è lavorata molto bene, è una squadra completa, è una squadra che lavora insieme da otto mesi, è una squadra che nonostante qualche piccola difficoltà è comunque lì davanti perché la classifica davanti è corta, quindi verranno qui a fare quella che è la loro partita cercando assolutamente di vincerla e noi dobbiamo fare una finale per portare a casa un risultato importante, ripeto con grandissimo rispetto ma con la piena consapevolezza che noi siamo il Pescara e non siamo inferiori a nessuno. Quello di domani sarà il diciannovesimo confronto tra Pescara e Spal, curiosamente la gara d'andata fu l'unica da titolare con la maglia del Delfino per l'attaccante spagnolo Raul Asensio che allo Stadio Mazza si procura uno strappo muscolare, dall'in poi appena altri dieci minuti a Salerno e quindi il trasferimento agli Estensi nelle ultime ore di calciomercato. Due giocatori che invece hanno lasciato la Spal a gennaio firmarono il 2-0 del match dello scorso 21 novembre, Salamon e Sebastiano Esposito e quel risultato interruppe una astinenza di vittorie degli Estensi sulle Pescara che durava da 40 anni. Spal che però in terra bruzzese non ha mai vinto 5 le vittorie del Pescara, 4 i pareggi. L'ultimo precedente all'Adriatico e del marzo 2010, il Pescara di Eusebio Di Francesco, papà dello Spallino Federico, si impose di misura con un gol di Dettori. Direzione di gara affidata a Federico Lapenna di Roma 1 che quest'anno ha diretto 10 gare di Serie A e solo una in B, proprio l'Adriatico, Pescara Cremonese 0-2 lo scorso gennaio. Pescara secco di vittorie con la penna dal 2015, Pescara Modena 1-0. Spal che ritrova questo arbitro a distanza di un anno, Spal Juventus 1-2 e con un bilancio di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. E a proposito di Spal, 6 punti nelle ultime 8 partite, la Spal è in piena frenata ed è scivolata all'ottavo posto della classifica. Gara delicata per il tecnico Pasquale Marino, ex della partita, la cui panchina è ora a rischio. La squadra che vive un momento come abbiamo vissuto noi, una sconfitta in casa pesante, andare a Salerno e non concedere nulla tranne il rigore alla fine, in più abbiamo creato quattro palle gol, in più abbiamo fatto il 60 e passa per cento di possesso. credo sia stato un segnale importante, quindi sono fiducioso perché la squadra vuole tirarsi fuori da questa situazione, quindi proviamo a fare sempre il massimo, poi a volte ci riusciamo in questo periodo o meno. Che idea si è fatto dell'ultimo Pescara in salute? No, in salute perché hanno fatto dei buoni risultati, vincere a Cittadella sappiamo bene che non è facile, hanno avuto, diciamo così, ci hanno creduto fino alla fine, hanno fatto gol all'ultimo minuto, così come era successo la settimana prima, avevano pareggiato con Lecce, quindi avevano fatto il risultato a Frosinone, sono in un buon momento, quindi sappiamo delle difficoltà, sappiamo che l'organico è buono, è stato ritoccato, quindi le difficoltà che ci sono, ci sono ovunque, non solo a Pescara, ma io ritengo sempre che dipende sempre da noi, dalla nostra prestazione. Secondo me l'approccio è mettere lo stesso agonismo, la stessa intensità dei nostri avversari, e questo è il nostro obiettivo, perché solo in quella maniera vengono fuori i valori tecnici, quindi dobbiamo cercare di fare questo. Andiamo in Serie C, per il Terramon si avvicina l'importante scontro diretto del Bonolis contro il Catanzaro. Viero torna a disposizione, ma non sarà titolare, Mungo e Soprano si candidano per sostituire gli squalificati Bombaggi e Piacentini, e i bianco-rossi cercano una vittoria che dimezzerebbe il distacco dai calabresi, riaprendo la corsa al quarto posto del campionato. Dei prossimi avversari e del proprio momento ha parlato il terzino Davide Vitturini, ascoltiamolo. Sì, sì, assolutamente. È stato un episodio che mi ha dato modo di scattarmi, nel senso che mi ha dato modo di capire che certi errori non possono essere commessi perché lasciare la squadra in dieci in qualsiasi campo, in questo girone, può condizionare molto la partita. Quindi nelle due gare successive sono stato soprattutto attento a non commettere gli stessi errori e ho avuto quella spinta in più per cercare di dare ancora di più una mano ai miei compagni. Sicuramente è un periodo, è un tour de force molto importante per noi e per la nostra classifica, però io non credo che dobbiamo metterci indosso troppe pressioni, ma dobbiamo prendere le gare individualmente, pensare adesso soltanto a quella del Catanzaro e poi staccare e pensare subito al Catanzaro. Quindi sicuramente incideranno i punti, però le prestazioni devono essere prese una alla volta e singolarmente. Il Catanzaro secondo me è sicuramente una corazzata. Non lo temo perché comunque in queste partite viene sempre fuori qualcosa di positivo da noi, come ho potuto vedere nelle partite importanti che abbiamo disputato. Quindi tiriamo sempre fuori qualcosa di più magari di quello che possiamo fare. Per cui il Catanzaro è una squadra attrezzata per essere tra i primi tre e quattro posti. La temo come tutte le altre partite sinceramente. Dovremmo avere molta concentrazione e molta attenzione, ma questo non deve mai mancare. Hanno grandi individualità, conosco diversi giocatori, per cui dovremmo avere l'atteggiamento giusto, dovremmo essere determinati e cattivi su ogni pallone, perché comunque le loro individualità possono creare giocate da un momento all'altro. Vediamo ora il weekend della Pallavolo, gli appuntamenti per questo weekend. In A2 la Sicortona domenica giocherà a Cantù alle 18.00. Big match in A3 dove l'Abbapineto del presidente Abbondanza andrà a Galatina, attuale capolista solitaria alle 16.00 per riscattare il momento. In B trasferta dell'Alba ad Ancona, riposa il Paglieta, in B1 altro rinvio 7 su 7 per la Tiatina, mentre l'Altino sarà impegnato domani a Cisterna. In B2 Gran Derby a Teramo domenica alle 17.30, tra impianti Futura e Arabona, rispettivamente terza e seconda in classifica. Il Pescara 3 invece riceverà domani alle ore 17 il Pagliare del Tronto. E con questa notizia si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Tutti i servizi, se volete recuperarli, li avete sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il TG6 termina qui. Grazie e una buona serata. Il TG6 termina qui. Grazie a tutti.